Salve amici fratelli della congrega, video totalmente improvvisato, non so come sarà registrato. Sono ben inquadrato? Inquadratura, profilo A, profilo B. E' iniziata questa fregatura che avviluppa, avvinghia la gente comune, legata ad antichi ritaggi, oramai perlomeno sottoscritto superati, di Sanremo, una cultura da carosello. Il carrozzone! Questi ragazzoni, cresciuti, induritisi, che tante esperienze dure hanno introiettato i loro vissuti, diciamo, da uomini sfregiati, fregati, scorticati, feriti nell'animo, che però si addolciscono. Quando vedono sfilare una passera, dicevo, una Red Hat, questi capelli titti di rosso, Noemi. Donna che ha colorato i capelli, donna non di colore come Campbell, Naomi. Molto più bella, secondo me. Questa donna dimagrita, come Adele. E la gente, soprattutto le donne, tifano, si accalorano per Achille Lauro, un ragazzo che sembra non avere il tallone d'Achille. Chi si spogli nudo presentandoci una canzone improponibile, impresentabile, da totale svergognato, uomo sfrontato, strafottente, non so se le donne, no, omosessuale, dichiarato, diciamo, totalmente. E si parla di Sanremo. Dopo una settimana in cui siamo stati ammorbati dalle elezioni presidenziali, ci accorgiamo nuovamente che in Italia non cambia niente. Tutto era stato pianificato. Mattarella, si sapeva che sarebbe stato rieletto presidente. Dopo una sarabanda, una tarantella, Nino Taranto, Peppino di Filippo, durata una settimana, capziosa per noi italiani, che crediamo nella trasparenza e nel vedo, non vedo, di donne belle che cantano sciocchezze. La gente si innamora, la gente melodrammatica, persevera ad ascoltare queste nenie, queste lagne, queste litanie. Dopo l'epifania, si festeggia il carnevale. E queste maschere pagliacesche, prima di darsi a nuove quarantene, no, alla quaresima, per risorgere in maniera pasquale, ancora elevano in gloria questi cantanti, per modo di dire, da strapazzo, per niente monumentale. Ora, in questa cultura popolaresca, nazional popolare, in cui la gente inneggia, diciamo, al cinema di Takashimike, per sembrare figa, emancipatasi, diciamo, culturalmente, da una retratezza, vita natural durante, esistente, permanente, e perennemente, così sarà, eternamente, dicevo, devo dare ragione affluscente, chi ascolta, guarda Sanremo, e un uomo, una donna, ancora ancorato, diciamo, alla tradizione, più conservatrice, di uomini, ignoranti, funzionali, alla società, come Adriano, c'è l'interno. Ora, Fruscianto è un bravo ragazzo, si è espresso, in termini, certamente prosaici, non del tutto eleganti, in merito, a qualcosa, che lui, disconosce, di cui, è ignaro, è profano, più volte, l'ho sentito, diciamo, esprimersi, con toni lapidari, e molto superficiali, sbrigativi, sulla malattia mentale, nella sua, mini recensione, patrimonio, di Raymond, sostiene, che, Dustin Hoffman, interpreti, una persona, malata di mente, si chiama, autismo, da non confondere, con, le persone, autistiche, schizofreniche, e spastiche, che, spesso, sparrano, e allora, è morta, Monica Vitti, soffriva, da anni, di una malattia, neuro, degenerativa, alcuni, dicono, vegetativa, e allora, ci sono persone, che vengono, ingiustamente, discriminate, accusate, di essere, affette, di danni, neuronali, diciamo, innati, e incurabili, no? Ora, dovete sapere, che, molti anni, addietro, io fui, ricoverato, in quanto, giudicato, troppo superiore, rispetto, a una società, ripeto, retrograda, arretrata, molto, indietro, mai, aggiornata, e, lì, un certo Tito, sì, vero, mi rubava, sempre la Coca-Cola, voleva, diciamo, sdramatizzare, la situazione, e farmi ridere, e mi raccontava, delle barzellette, barzellette, che, diciamo, potrebbe, appaiarsi, ai gusti, sessuali, di Achille, Lauro, allora, un cinese, finisce, in manicomio, al che, viene preso, sotto, l'ala protettiva, la scorta, sì, sì, il contatto di camicia, di forza, di uno psichiatra, che gli effettua, diciamo, un ritratto diagnostico, una diagnosi, dottore, la mia, malattia, qual è? Non sono malato, perché, omosessuale, no, perché, i miei genitori, hanno detto, che devo stare qua, perché, devo curarmi, da, questa cosa qui, che è incurabile, il dottore, risponde, no, lei sarà sempre, ingullabile, non va ridere, invece va ridere, allora, devo ammettere a me stesso, di essere, un uomo senza palle, un uomo senza testicoli, senza gonadi, siamo sicuri di questo? Allora, qui c'è un bel pacco, un pacco regalo, che sarà offerto, a tutte le donne, di buona volontà, e ora cercherò, di recitare, questo pezzo, diciamo, in maniera seria, concentrata, impegnata, socialmente, anche politicamente, alla Gianmaria Volontè, ma questo è un libro, molto particolare, un escursus, diciamo, una riesumazione, di me stesso, a proposito, morta Monica Vitti, io cosa sarei, un eunuco, che sono, un turco napoletano, come Totò, allora siamo d'accordo, mille lire al mese, Vitto, alloggio, lavatura, e, e stiratura, e la gente rideva, ma non aveva capito, la battuta, perché, quando guardai, questo film, con mia nonna, mia nonna, ma cosa vorrebbe dire, Totò, con stiratura, vuole dire, la gente, era molto, diciamo, retratta, diciamo, che, ecco, io, posso evitare, Totò, posso essere un grande attore, rimedesimandomi, a modi, Totò Diabolicus, anche, in veste di donna, come Monica Vitti, lei, invece, non è Monica, toglierai, metto un A, Monica, o è Monca, non lo so, allora, ehm, volevo leggervi un pezzo, diciamo, molto, molto duro, crudo, diciamo, bagliori, fluorescenze emotive, stati di impazzimento, gli stati impazziti, perché non sanno che pesci vigliare, con questo Covid, e così, ho voluto romanzare quelle virulenze, miei adolescenziali, sofferte, patite, equilibrate, perfino nel mio parente, estranearmi, astrarmi, e amare solo il mio florido, astro emozionale, e rimembrare quel mio, smembrarmi, con delicata giustezza, così come il mio animo di oggi, vuole che siano avvenute, nella maniera in cui le ho descritte, le ho parzialmente, personalmente inquadrate, anche se sarei presuntuosa, nel dire che sia stato un momento così, bellamente delineato, come ho fatto con tanto spudorato romanticismo, addorcendo invece le tempeste, i turbamenti, anche osceni, che senti, si, in profondo senti, e il mio cuore, squartarono sventrante, ricordo, che quell'astinenza sociale, duratura, pervasiva, insistente, quella sorta di prigionia autoindotta, era protettiva, e mi garantiva stabilità emotive, certamente ascetiche, ma anche masturbatorie, autoreferenziali, trascendentali, ma, che per far sì, che si sorreggessero, e mantenessero tali, abbisognavano, di una complicatezza, inversamente disagevole, e sgradevole, potrei dire, non avete capito un cazzo, ci sono pezzi, molto politici, diciamo, molto dolorosi, lacrimosi, ma anche, diciamo, radiosi, luccicanti, di vita ancora, abbacinante, abbagliante, luccichi, dubitale, fiammeggiante, di schiudersi, ma suetudine, carezza, la propria anima, nel mondo, che tramontava, e si spengeva, ho utilizzato, un verbo, diciamo, quale spegnere, spegnersi, toscanizzato, spengeva, il mio fedelo, con occhi lontani, da ciambustio, dalla chiasosità, volgare, ma si viene fraintesi, ed ecco che qualcuno, abbezzo a giudicare, senza voler entrare, nelle anime altrui, senza avere l'accortezza, di vederle per come sono, e non per come, ingannevolmente appaiono, li ripinse, come una persona malata, malata forse di, sì, solo di infinità, e dell'indefinitezza, tipica, di quell'età, così stramma, nel suo paventarsi, esoterica persino, devi spaventarti, paventarsi, è un'altra cosa, e qui forse c'è una licenza poetica, e allora il tuo sembiante, sempre indagato da sguardi tesi, solo al turlopinare, la tua vera autentica essenza, combaciocco lo scena, distorta simbiosi, di quei perentori giudizi, di quelle superficialità voraci, inghiottitrici, della tua anima libera, o qual'errore, essersi ingandate, la maestria fluidissima, dei sogni, essersi oscurati, in una dimensione, follemente lucida, quanto lucentissima, nel suo sincero esternarsi, aritmica, diatimia, sei timido, che dava fastidio, all'orrore, l'orrore, l'orrore degli sbrigativi umori, sganciata, qui ci vuole la recitazione, alla Marlon Brando, l'orrore, e quei ragazzi, che pensavano di aver capito tutto, avevano raggiunto il nirvana, ascoltavano Kurt Cobain, o credettero di essere Kurtz, il principe Antonio De Curtis, i miei capelli corti, il mio naso lungo, come qualcos'altro, che s'allunga, poi ritorna corto, Sam Mosha si indurisce, come un cuore, ancora, che patisce, o penetra, una donna, che ha brustolendolo, caldamente, poi lo languidisce, lo illanguidisce, dopo che l'entrò liscio, ci sta. Una storia con Vili, della follia, nelle bracci brucianti, dei suoi meandrici corridoi mentali, e notturne, nei bagliori del tempo fermato, e poi ritornato nella sua fulgilezza, più vera e coracciosa. Perdizione, e poi salvazione, qui sono ammetico, una psichiatrica, storia di appannati, obnubilati lindori sommersi, di taciute rabbia, di punite ire, di vita placata, ancor poderosamente riamata, o implacabile, la rabbia, che abbaia, qui sono sempre poetico, dalle profondità interiorità, del tuo cuore silenziato, zittito e tormentato, di nuovo, placidamente restaurato. Ma anche un lungo racconto, di prima persona del burlesco, fosco teatro, della commedia umana, teatro di maschere false, di spettri, di bugiardi, di ombre, sgargiantemente rimerse, e avverbio, da sgargiante, da sfavillante, spume, giante, come Jim Carrey, mi dissero, togliti la maschera, deco Fior Mask, toglietevela voi, la maschera, io sono uno, nessuno, centomila, sono pirandello, prima di arrivare a Imola, c'è una località, che si chiama Piratello, Piratello, sì sì sì, che è un veseggiativo di pirata, che sono io come Jack Sparrow, un po' Johnny Depp, un po' Johnny 99, di Bruce Springsteen, non è male, mi piace molto come canzone, l'Indio, i cattivi, Hannibal Letter, il mio piccolo genio, Jodie Fos, questo è un fan prodigio, anche lei dalla sessualità ambigua, no, lei è lesbica, vabbè, infatti, spara, nelle palle, nelle palle, si viene degli occhi, Buffalo Bill, voi continuate, continuate, in questo festivaliero, cazzeggiare, cantate le canzoni, cazzoni, fategli scanzonati, ma siete sempre arrabbiati, perché non avete trovato quelle omeostassi, quella crescenza emozionale, che vi permette di elevare il pensiero, e anche qualcos'altro, e siete sempre tesi, sempre duri, tristi, a proposito del grande Atriano, e ci dispiace per gli altri, che sono tristi, che sono tristi, e che non sanno più, cos'è l'amore, in vero amore, in vero amore, e tutte quelle persone, stand by me, la malinconia, la nostalgia, pregherò, per te, che è la notte nel cuo, ma se tu lo vorrai, se tu lo vorrai, sta qua, questo, fa vedere le cose, diciamo, in maniera più lucida, più brillante, a volte più eiaculante, i miei uomini incazzeggianti, i miei uomini parlate, parlate sempre, bello questo film, molto bello, molto bello, 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 bello questo film, questo film è bello, questo è di Johnny Do, questo è cinema orientale, giapponesi, ginesi, guardi, e tarantino di piaccia, scorsese, scorsese, portiamo a Sanderson, la pizza, la liquirizia, ci vuole un po' più di malizia, un po' più di peperlizia, io sono un uomo sott'aceto, che rende tutte le persone acide, inaciditesi, che addivengono, diciamo, a conclusioni affrettate, dico, gogioni, non fate i coglioni, è chiaro, perché i coglioni, deve farveli, la vostra lei, è chiaro, io non sono signore, quando mi esprimo così, diciamo, in maniera per curezza, ecco, ma signori, si nasce e potestamente lo nacque, quindi lei, questo qui, deve far sì che si nacque, e che tutta lei naffi, che sono queste cose, sono quelle che sono, e come dice il grande cliente, student, for a few dollars more, per qualche dollare in più, la sera, la sera vado sempre a letto presto, quando il mattino dopo devo sparare, quindi, poveri disperati, è inutili, che magnificati cinema, che cantate, siete uomini tristi, dicono, ma ve lo devo spiegare, voi non già arrivate, mai, o forse arrivate troppo presto, non va bene, non va bene, bisogna diluire, allungare, in maniera, diciamo, come dice, detto, di odi proverbi, ma chi va piano, va sano, e va nell'ano,